L'assessorato regionale pesca mediterranea e l'associazione temporanea di scopo costituita da 100 medialode, SRL e dall'azienda trapanese Nino Castiglione sono gli attori del progetto Accademia del Tonno Rosso in Sicilia finanziato con i fondi del Piano Operativo per la Pesca 2014-2020. L'iniziativa presentata ieri a Palermo punta a promuovere le conoscenze sul tonno e sui luoghi del tonno. In Sicilia si contano un centinaio di tonnare oltre che sui valori nutrizionali del tonno, della pesca sostenibile e della salvaguardia dell'ecosistema marino. Nel partenariato pubblico-privato saranno coinvolti altre istituzioni private delle università e tra queste l'Istituto di Biologia Marina del Consorzio Universitario di Trapani un percorso da un lato di carattere culturale dall'altro di natura economica. Davvero un momento importante dove c'è un raccordo sinergico tra il mondo politico-istituzionale e il mondo produttivo il mondo che lavora e che produce, quindi azioni politiche e amministrative che consentiranno a questo settore di fare un ulteriore salto di qualità e poter davvero conquistare i mercati internazionali perché il suo messaggio, il tonno rosso, è un elemento sulla quale si può costruire davvero una bella attività economica per produrre reddito e futuro per la Sicilia e per i siciliani. Il progetto prende il nome di Accademia perché fin dalle origini ha assunto un taglio formativo e informativo. Tra le realizzazioni in programma l'istituzione di una biblioteca del tonno e della tonnara con sede all'interno dei locali della tonnara di Favignana in collaborazione con le università siciliane sotto l'egida della regione. Ed ancora un portale web, un fitto programma di eventi tra Palermo, Trapani, Favignana e Siracusa in concomitanza con la giornata mondiale del tonno che si celebra il 2 maggio. L'attivazione del Tuna Farm, progetto di animazione delle tonnare siciliane con attività ludico, didattico, educativa e rivolte ai giovani, il Tuna Clip, produzione di videoricette a base di tonno.